voglio dire di qua ma troppo quindi voglio dire poi ci torneremo su per precisare meglio voglio dire la questione è questa sono votabili tutti quanti i calciatori di ogni tempo che hanno calcato i campi di solo Plaga e si possono esprimere però che distribuiremo le schede diciamo ciascuno tre preferenze votando voglio dire scrivendo a piacere in modo libero per le schede e per l'idea e consegnandole poi al Sergio dove viene annotato il nome e cognome al momento dell'impuggo della schede alla fine voglio dire proclameremo diciamo il calciatore che avrà ricevuto più preferenze calciatore vincitore del sondaggio della morte delle schede e quindi poi procederemo a consegnarvi l'ambito e procederemo a comprimersi a urlare tutti quanti per gli atleti diciamo comunque anche in attività che sono impegnati in attività agonizia quindi voglio dire questa è la nostra volontà questa è la nostra premessa ed è quindi diciamo ci dispiace che qualcuno abbia presa un diciamo l'abbia interpretato un po' un po' un po' un po' un po' un po'